Anche grazie alla posizione con le autorità sanitarie del Piemonte e di altre regioni abbiamo proceduto a significare le sedi di giornale, in caso che riguardava un epografo, e contemporaneamente abbiamo inaugurato un metodo di confezionamento del giornale che si consente di essere in edicola e online, grazie allo smart working, ovvero il 90% dei nostri redattori lavora da casa, mentre abbiamo un numero estremamente limitato e adesso ha accesso agli uffici centrali del giornale in più città, coordinando i lavori degli altri. Significa fare un giornale di smart working, e significa anche in redazione sentirsi in trincello. Grazie.